Il coordinamento per la democrazia costituzionale Abruzzo ha raccolto più del doppio delle 50.000 firme necessarie per presentare la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare sull'autonomia regionale differenziata. C'è la certezza quindi che della discussione sull'autonomia differenziata venga investito il Parlamento, il contrario quindi di ciò che prevede il disegno di legge Calderoli che privilegia l'intesa tra Stato e Regioni. Il movimento contro l'autonomia differenziata cresce, oggi le firme vengono consegnate a Roma, all'Aquila nella sede della CGL, tanti interlocutori a ribadire la loro contrarietà. A partire dalla sanità e il sociale e noi già sappiamo che abbiamo i nostri servizi pubblici allo sbando e molto carenti, pensiamo alla sanità, alle lunghe liste di attesa e ai grandi problemi della sanità. Ma la stessa cosa vale per il sociale e la stessa cosa per i trasporti dove appunto le regioni del sud già arrancano. La verità è che questa autonomia differenziata si vuole fare perché le regioni del nord vogliono trattenere le tasse al nord. Noi invece avremmo bisogno esattamente del contrario, avremmo bisogno di fare sì che ci fosse un finanziamento dei servizi pubblici locali, dei servizi essenziali nelle regioni del sud. Il successo della raccolta firme è un lavoro corale di diverse forze associazioni, anche l'Ampi, la cui vicepresidente nazionale, Aquilana, CGL Willali, Notrib e tante altre sigle associazioni sono state le promotrici della raccolta. Ci saranno molte disuguaglianze e le disuguaglianze che già oggi esistono sul nostro territorio nazionale, tra le regioni più ricche, le regioni più povere, le regioni più popolose, che hanno maggiore capienza fiscale e quelle meno popolose aumenterà. E con questo aumenterà la disparità di tutti i diritti sociali, il diritto alla salute, il diritto alla scuola pubblica, il diritto all'ambiente, perché sono tutti i diritti che costano ovviamente. E se noi invece di risalire la differenza di risorse che esiste tra il nord e il sud del paese, tra alcune regioni e altre regioni, questa differenza la aumentiamo, è evidente che aumenta la disuguaglianza. Grazie a tutti.